ciao a tutti e buon pomeriggio vi faccio uno spacchettamento vorrei dire rapido ma sono diverse cose di campagna 8 è appena arrivato e sono appunto diverse cose c'è tantissimo cartaceo perché in questo pacco mandano il nuovo catalogo casa versione autunnale vi faccio solo vedere questa che io già so che prenderò la tazza di viaggio il nuovo colorario eccolo qua poi mi hanno mandato tantissimi supplementi di catalogo 9 e 10 lavo tutto per te che ha questa copertina qua appunto dedicata al nuovo catalogo autunnale infiniti supplementi poi mi hanno mandato la classica fattura l'outlet guardate carino questo pigiama e poi è arrivato il nuovo catalogo il numero 10 che va dal 31 agosto al 20 settembre ci sono un sacco di cose carine carine e poi è dedicato al lancio di questo nuovo profumo che è praticamente e questa è la crema corpo nella fraganza far away rebel che hanno mandato alle nuove presentatrici ea chi si è classificata nel cluster argento e oro insieme ai campioncini i campioncini questa volta erano a parte vabbè c'era il catalogo la crema 4 campioncini questi qua 8 campioncini misti di quindi soprattutto per chi ancora non è entrato in avon ma ci sta facendo un pensierino questi sono i regali che praticamente manda avon acquistando un prodotto cosmetico in anteprima della campagna successiva in questo caso avevo preso il mascara clear della color trend praticamente il mascara trasparente quindi serve sia per le ciglia che per le sopracciglia lo lo lanceranno in campagna 9 allora poi ho preso i miei soliti cataloghi quindi ne ho ordinati sei me ne sono arrivati altri sei e iniziamo con i prodotti e praticamente vi faccio vedere una cosa che sul catalogo secondo me non rendeva benissimo e era nelle offerte centrali diciamo è un completo pantaloni e maglia tipo pile che all'inizio pensavo fossero solo pantaloni invece è proprio un completo e l'ha preso eva siccome mi vede io la saluto perché è bellissimo e penso che almeno prendo anch'io questa è la maglia col cappuccio e questo è il pantalone pile effetto animalier ma secondo me è stupendo dateci un pensierino 19 99 tutto quanto poi mi è arrivato questo che l'ha ordinato mia madre che è il completo lenzuola quello cipria con questa fantasia qua queste sono le lenzuola 100% cotone e il copriletto uguale con la stessa fantasia molto molto bello secondo me il poto non rende sembra più scuro invece è molto bello poi c'era per noi la possibilità di acquistare un solo pezzo per presentatrice diciamo un astuccio della carioca solo due scomparti però l'ho preso per sofia perché andrà all'asilo l'ultimo anno quindi di solito portano l'astuccio non era possibile scegliere la fantasia ma tanto era fantasia animale quindi andava bene tutto e a noi è arrivato questo guardate carino vi faccio vedere com'è dentro è così 8,50 euro questo lo faccio qua e questi i pennarelli vi faccio vedere poi un po' di prodotti più cosmetici diciamo anzi prima di passare prodotti più cosmetici vi mancava di farvi vedere sempre per la serie abbigliamento in quelle pagine sempre c'era la maglia che sta qui rosa chiarissimo è una felpa un po' lunga e 12,99 mi sembra ma non sono sicura come vedete è felpata molto carina rosa proprio chiarissimo per me ho preso questo è arrivata un'offerta extra catalogo che io ho mandato anche alle altre ragazze e questo è il reggiseno 8,99 euro guardate che bello molto molto bello questa è una quarta C molto molto carino poi mi hanno ordinato un portafoglio che era nell'inserto centrale dedicato all'uomo non ve lo faccio vedere mi sembra 11,99 un portafoglio nero classico poi mi hanno ordinato la paletta quella per i dolci quella rosa non è per me quindi non la apro nel catalogo di campagna 7 c'era l'offerta dei due bagnoschiuma a 7,90 quindi da un litro e li ho presi questi uno per mia suocera che è questo e uno per me questo perché l'ho sentito che è buonissimo ve lo straconsiglio ha un odore fantastico quindi l'ho dovuto assolutamente prendere ho poi preso questo sempre per mia suocera un shampoo da 700 ml poi c'è un'altra offerta che era solo online di tre bagnoschiumi bagnoschiuma da 500 ml in queste fragranze quindi lavanda soft pink e white lily che è questo se non sbaglio se non sbaglio 3,8 euro e 50 non voglio sbagliare poi ho un altro soft pink ma questo faceva parte dell'offerta di un sul catalogo era 11,99 mi sembra quella di tre pezzi del soft mask del talco in più c'era il bagnoschiuma cataloghi di campagna 9 perché me ne sono rimasti pochi perché l'ho mandato un po' alle ragazze poi ho preso vi faccio vedere mi hanno ordinato nelle prime pagine se avete fatto caso di campagna 8 c'erano degli articoli a prezzi interessanti come il profumo pur blanca blush a 5 euro e ne hanno presi due il fondotinta quello matte della calming effect a 5 euro e poi ne sono arrivati i mascara della volta precedente quelli a 1 euro della marca così qua 3 mascara poi mi hanno ordinato una matita semplice nera della color trend che stava in campagna 7 poi mi sono presa ho preso per me visto che in campagna 8 c'era il lancio del rossetto matte della color trend l'altra volta avevo preso il rossetto wine questa volta ho provato con mauve o less e con wild berry adesso ve li faccio vedere questi sono i miei allora questo è il move o less questo qua e questo è lo swatch la luce oggi è pessima comunque va e viene sono leggermente differenti da come li vedete sul catalogo sono più scuri secondo me questo è il wild berry eccolo qua ho poi preso un questo dall'outlet la on sensis per le mani l'edizione invernale sicuramente quella di del natale scorso buono raspberry in vanilla vediamo ecco ho preso questa ce la faranno questa questa qua davanti e così e dietro così molto carina allora per le novità ho preso il profumo da borsetta della rebel quindi far away buono ve lo consiglio un po' dolce però è buono e poi ho preso questo che praticamente lo troverete in campagna 10 è l'olio di argam di cocco per i capelli siccome ho finito l'altro quello di argam con la confezione qui azzurra e qui in vetro ho detto proviamo questo perché con l'altro l'ho terminato quindi vediamo questo come come va non si sente nessun odore ho preso poi un sacco di campioncini di rossetti perché li vorrei regalare alle ragazze che magari entrano e quando gli mando il kit fino adesso sono riuscita a mandare solo i profumi ho detto vabbè mando anche qualcosa di rossetti tanto era 10 rossetti 1,50 euro e poi mi hanno mandato i classici 5 profumini però sono tutti celebre questi sono tre dovrebbero essere altri due bene ne hanno mandati solo tre invece di cinque ok non so spero che questo video spacchettamento un po' così fatto al volo vi sia piaciuto se c'è se c'è qualche prodotto che vi interessa e di cui volete sapere qualcosa in particolare insomma chiedetene con me se vi va iscrivetevi al canale e mi raccomando lasciatemi un like e ci vediamo al prossimo video ciao